Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la Juventus espugna il Camnou con tre gol, una prestazione straordinaria. Un'impresa, perché quando sei sfavorito e vinci dominando nel gioco e nel carattere, compi l'impresa. Il giorno dopo le Juventus Women ci sono andate vicine, hanno condotto a lungo contro il Lione, che ha vinto cinque Champions consecutive in casa, perdendo all'ultimo per due a tre, ma restando sempre in partita e avendo delle grandi chance di ben figurare anche nella partita di ritorno. Queste sono le Juventus che noi vogliamo vedere. Nel giorno in cui è venuto a mancare Pablito, Paolo Rossi, che rimarrà per sempre l'eroe del Mondiale 1982, dove l'Italia vince contro i pronostici di tutti, con le avversità, con l'assedio da punto di vista mediatico, con le critiche, dove gli italiani hanno tirato fuori quello che è il carattere che contro la distingue loro, e la Juventus quando si tratta di fare una grande impresa. E allora nella settimana delle imprese il ricordo va assolutamente lassù, a Pablito, che con noi ha vinto tutto, dagli scudetti fino alla Coppa dei Campioni, perché allora si chiamava ancora così, e che con l'Italia ha fatto sognare un'intera generazione. La nostra. Grazie. Grazie.